Oggi vi voglio parlare della collezione Happy Holidays della Essence. Questa è una collezione che è uscita a Natale del 2013 è una collezione in edizione limitata composta dagli smalti duo con il colore normale e il glitter. Poi sono usciti gli ombretti, i rossetti balsamo, il nastro per i capelli, poi sono usciti anche due stick blush, due blush in stick. Poi sono usciti gli smalti duo e le decorazioni per unghie. Inizio con questi. Questa è la linea e questo è il numero. Prima si mette questo e poi questo. Questo è lo smalto da solo. Poi procederò a mettere i glitter. E questo è il risultato finale mischiando i due smalti. La linea è color 3 nail polish perché potete usare questo da solo, questo da solo oppure mischiarli. Quindi così avete tre combinazioni, tre combinazioni. Ancora prima questi smalti, il duo è uscito in un'altra linea sempre della Essence, non nella collezione limitata Happy Color, Happy Holiday. Questo è il rosso e questi sono i glitter. Il risultato del colore è questo. Adesso devo aggiungere questo. E questo è il risultato finale. Light Up V3. Questo è il colore base. Poi ci sono i glitter argento. Il numero 4, Sugar Plume Fairy. Questo è il colore di base. E questi fucsie sono i brillantini. Adesso procedo a mettere questo. E questo è il risultato. Vincere quando ho aggiungito il collezionato il collezionato il collezionato. Così, è un problema. E' un po' più forte. E' un po' più forte. Per fare il collezionato. Come devo aggiungere il collezionato.